è inutile negarlo fotografare orologi è una bella sfida sia che siamo amatori sia che siamo professionisti questo proprio per la natura intrinseca degli oggetti che sono riflettenti hanno molteplici superfici quasi tutte riflettenti molteplici sfaccettature quindi sono difficili da illuminare e sono difficili da fotografare perché spesso riflettono l'ambiente circostante quindi oggi vado a farvi vedere come ho realizzato queste fotografie di questo particolare orologio con una tecnica e un set design che non ho certo inventato io ma che potete andare a replicare per realizzare uno scatto simile ciao a tutti amici bentornati sul mio canale io sono cesare mi occupo di fotografia e oggi vi faccio vedere come ho realizzato questa fotografia andremo innanzitutto a esaminare tutte le componenti che sono state necessarie per portare a termine lo scatto dopodiché vi farò vedere come sono state posizionate per ottenere il risultato faccio un doveroso inciso purtroppo e dico purtroppo ho dovuto utilizzare un sacco di cose per realizzare questa foto quindi durante il corso del video vi farò vedere degli oggetti mi rendo conto che non è molto bello cercare di insegnare qualcosa insegnandovi di fatto che per realizzare qualcosa dovete per forza comprare delle cose però in ambito still life e soprattutto in un momento tecnico come quello della fotografia di un orologio non è assolutamente possibile realizzare uno scatto di questo tipo senza avvalersi dell'aiuto di tutte le cose che vi farò vedere in questo video ogni cosa che sottraete la vostra foto viene un po' meno bene e un po' meno bene e un po' meno bene quindi sono assolutamente indispensabili poi ovviamente si possono fare scatti diversi questa non è l'unica foto possibile di un orologio nell'universo è una foto possibile però per fare esattamente lo stesso scatto vi serviranno esattamente le stesse cose o grosso modo le stesse cose vi lascerò ovviamente i riferimenti amazon nell'infobox ma se argomenti come questo vi interessano io vi consiglio anche di iscrivervi al canale in maniera tale da non perdervi le prossime puntate se attivate anche la campanella è una garanzia in più per tutti quanti voi cominciamo col primo pezzo che vi faccio vedere non so se riuscite a vederlo tanto bene questo è un pezzo di plexiglass fondamentalmente quadrato in cui potete vedere riflessa parte della stanza è fatto proprio per questo per dare un riflesso per cui nel momento in cui io posiziono il mio soggetto sopra questa superficie vedrò un riflesso naturale che starà subito sotto al mio soggetto ecco vedete il concetto è questo questa è una superficie che riflette per cui si vede il riflesso di quello che ci posiamo sopra è molto bello secondo me lavorare in questo modo perché così noi stiamo realizzando un riflesso vero non stiamo copiando l'oggetto capovolgendolo con photoshop e mettendolo sotto con una maschera di ritaglio che si funziona è una tecnica si usa però non è bello è utile si usa si mette lì in quella maniera a me personalmente non piace lavorare in questo modo è molto più edificante intanto perché è vero poi perché non bisogna stare lì a perdere ore e ore di post produzione per fare semplicemente il ritaglio da incollare sotto poi perché così possiamo anche prendere delle decisioni possiamo posizionare il nostro soggetto in maniera tale che il riflesso sia in un certo modo questo a differenza del vetro lancia un riflesso che è molto più utilizzabile perché spesso e volentieri quando noi mettiamo lo specchio sotto alle nostre foto vediamo che il riflesso è raddoppiato questo per il fatto che lo specchio ha una superficie a due superfici praticamente ha un primo strato un secondo strato quindi il riflesso raddoppia sempre invece se usiamo il plexiglass come vedete nell'immagine che vi mostro non abbiamo questo fastidioso effetto sdoppiamento e quindi il riflesso a mio parere è molto molto migliore un'altra cosa che ho utilizzato che dovrebbe essere un po il centro di questo video è quest'amico che vi faccio vedere questo qui che è enorme per cui io mi faccio un po' indietro nella speranza che riusciate a vederlo per intero questo qui è uno strip box della godox come potete vedere non mi ricordo le misure ve lo lascio in info box se vi interessano così tanto le misure potete andarvelo a recuperare ora che cosa serve questo affare come potete vedere posizionato in questa maniera mi fornisce un'illuminazione più o meno costante perché comunque la luce è qui in mezzo però più o meno mi fornisce un'illuminazione costante lungo un asse abbastanza lungo questo che cosa significa che io posso posizionare un oggetto riflettente nel mezzo e sono ragionevolmente sicuro che la luce abbraccerà il mio soggetto quindi avremo il riflesso di questa luce che correrà lungo tutta la superficie del mio oggetto riflettente come vi farò vedere io ne ho utilizzati due quindi ho utilizzato due di questi messi uno di fronte all'altro in maniera tale da circondare il mio soggetto di luce su tutte e due i lati questa è la cosa assolutamente essenziale di questo shooting perché senza questo non è possibile realizzare una foto di un oggetto riflettente in questo modo perlomeno si possono usare altre tecniche il cubo di luce piuttosto che creare delle sponde però se vogliamo realizzarla esattamente come l'ho fatta io serve una strumentazione di questo tipo per illuminare in maniera coerente il nostro soggetto su entrambi i lati quindi avere un'illuminazione diffusa sia da una parte sia dall'altra e dare la sfumatura che vogliamo alle maglie dell'orologio in maniera tale da farlo risaltare ovviamente quando tiriamo in ballo i modificatori non possiamo scordarci dell'illuminazione vera e propria per cui questa è la torcia che è stata utilizzata per realizzare questo shooting come potete vedere si tratta della godox sk402 una torcia flash che ho già recensito sul canale per cui trovate il video ve lo linko da qualche parte se no se ve lo andate a cercare lo trovate dentro nella playlist delle mie recensioni una recensione fra l'altro per cui ricevo ancora complimenti perché era stata abbastanza lunga abbastanza in profondità quindi vi avevo fatto vedere proprio tutto quello che si può fare con questa torcia in questo caso non ci ho fatto niente di trascendentale le ho semplicemente usate per illuminare la scena unite al modificatore che avevo appena mostrato due di queste erano messe fondamentalmente una contro l'altra col soggetto in mezzo dopodiché ce n'era una terza posizionata al di sopra che dava una luce di schiarita al tutto ed è servita per lo più per illuminare il quadrante dell'orologio ora un qualcosa senza cui non sarei mai riuscito a portare a termine lo shooting ne faccio vedere solo un pezzo perché è così grande che se lo apro qui mi ribalta tutto quanto lo studio allora questo voi qui vedete una superficie argentata è argentata da una parte e nero dall'altra parte questo è ovviamente è uno di quelli collassabili se io lo tiro fuori diventa cos'è che è questo diventa un due metri per insomma abbastanza grande e questo ha la caratteristica chiudo prima che scappi questo ha la caratteristica di avere una protezione che appunto come vi mostravo ha il nero da una parte e l'argento dall'altra quindi può riflettere oppure può oscurare ma anche la caratteristica di poter essere tirato fuori dalla custodia nero e argento e all'interno c'è semplicemente un diffusore quindi è un collassabile con un diffusore questo diffusore io l'ho posizionato sopra alla mia scena in maniera tale da diffondere l'ultimo l'ultima torcia flash che stava posizionata al di sopra e dava una luce di schiarita in particolare al quadrante dell'orologio perché altrimenti il quadrante non avrebbe ricevuto luce siccome l'orologio era illuminato dai due lati sul lato davanti non arrivava così tanta luce quindi una luce di schiarita da sopra era quello che ci voleva per portare fuori i dettagli del quadrante e ho utilizzato questo per diffondere l'ultima luce tenendola quindi abbastanza lontana quindi questo non è un modificatore applicato alla luce la luce era posizionata parecchio lontano questo qui è stato posizionato molto vicino al soggetto mentre la luce è stata posizionata lontano per avere la massima diffusione perlomeno la massima diffusione che riuscivo a ottenere io con quello che avevo in uno studio non particolarmente grande sicuramente avendo degli octabox da due metri si riesce a fare di meglio ma ahimè io non ho nello spazio nei due metri di octabox ovviamente stiamo scattando su tre piede scatto su tre piede non tanto perché sia indispensabile ma perché in questa particolare fotografia ho anche utilizzato la tecnica del focus stacking se vi interessa saperne di più vi invito a cliccare il link che vi lascio in card perché ho realizzato di recente un video proprio sul focus stacking in cui vi faccio vedere come lo faccio io e con particolare riferimento a questa tecnica io non ho utilizzato la rotaia perché dovete sapere che questa è una tecnica che consiste nel mettere a fuoco diverse parti dell'immagine in maniera tale da avere un'immagine più nitida con tutti i pezzi della nostra immagine perfettamente a fuoco perché se io metto a fuoco il punto più vicino magari il punto dietro è un pochino sfocato per cui io vado a realizzare più foto cambiando la messa a fuoco in maniera tale da avere a fuoco tutti i punti poi le miscelo questa tecnica mostra un po il fianco a un fenomeno che si chiama focus breathing che consiste fondamentalmente è una condizione ottica della lente per cui nel momento in cui noi andiamo a variare il nostro fuoco ci sono delle aree che è come se si gonfiassero e se si sgonfiassero quindi le parti a fuoco le parti fuori fuoco hanno una variazione del loro rapporto spaziale e questo può provocare poi dei disallineamenti nel momento in cui le andiamo a unire con il nostro software per ovviare a questo problema molto spesso si utilizza una rotaia che quindi ci consente di fare il focus stacking ma senza andare a variare la messa a fuoco variando invece la distanza dalla nostra fotocamera dal soggetto ora questo risolve il nostro problema assolutamente no soprattutto su un soggetto come per esempio un orologio che insomma ha posizionato nella posizione in cui l'ho messo io aveva magari un 5 centimetri di differenza tra il punto più vicino e il punto più lontano per cui far scorrere la fotocamera sul binario per 5 centimetri avrebbe comunque dato luogo a un fenomeno di disallineamento per cui in questo caso io ho preferito non usarla la rotaia anche se ce l'ho però ho preferito non usarla perché mi sarebbe sembrato inutile inutile farvelo vedere e potenzialmente anche più faticoso per me perché avrei fatto comunque fatica ad allineare le immagini ma avrei in più anche dovuto fare fatica utilizzare la rotaia quindi non l'ho usata ho semplicemente variato la messa a fuoco quindi primo scatto e giro un pochino secondo scatto e giro un pochino terzo scatto e giro ancora un pochino finché non ho coperto tutto il mio soggetto è un po come fare a fette un salame devo fare una foto ogni fetta di salame in maniera tale da avere a fuoco tutte le fette nulla di più semplice di così ovviamente come avete potuto vedere dalle immagini questo è un processo abbastanza lungo infatti ho cominciato il set design diverso tempo prima di realizzare le foto vere e proprie perché ora che si mette tutto a posto si fanno le prove si controllano le prove magari si posiziona meglio il treppiede tra una foto e l'altra perché posizionando le luci si cambia idea magari io posiziono il mio treppiede a luci spente poi ne accendo una per cominciare con quella comincio con la principale faccio uno scatto di prova e mi va bene così aggiungo le altre due a step prima una poi l'altra così vedo esattamente come stanno facendo e quando la scena è finita mi dico oibo così però non mi piace allora adesso mi sposto perché c'è un riflesso che non mi piace in quella maniera quindi cambio idea durante infatti questo è il motivo per cui quando vi faccio vedere la sequenza delle immagini vedete che ho cambiato in quadratura tra le prime e poi il risultato finale questo dipende proprio dal fatto che nel momento in cui io allestisco il set ho in mente come voglio che venga però non ho esattamente in mente cosa fanno quelle luci quindi lo scopro durante perché ogni orologio è diverso gli oggetti riflettenti sono affascinanti ma sono vigliacchi perché ognuno di loro è diverso è sufficiente una curvatura diversa e prendono dentro un riflesso che un altro oggetto magari anche simile non avrebbe preso per esempio esistono orologi con le anse a elica che tirano dentro più riflessi anche sui lati laddove magari un orologio con le anse rettilinee non li avrebbe presi esistono orologi con il vetro a cupola che riflettono tutta la anse danno un effetto fisheye quindi sono ancora più difficili da fotografare questo per fortuna non aveva una cupola di questo tipo sul cristallo quindi è stato paradossalmente più facile insomma tutto questo per dirvi che è un procedimento un po lungo il set design per uno shooting del genere è un processo un po lungo molto divertente io ci passo volentieri il mio tempo libero a fare queste cose perché mi piace studio faccio una cosa che comunque mi dà piacere ed è anche vagamente formante perché mi capitasse nella vita che mi chiedessero esattamente questa foto ho già in mente lo schema da usare e registro questo video anche perché quando me lo chiederanno non me lo ricorderò più e così potrò riguardarmi il mio video e rivedere come avevo posizionato le luci per cui molto molto utile anche per me non ho ancora menzionato la fotocamera in questo caso io sto scattando con canoneos 7d e sto utilizzando la lente ef 100 mm f 2.8 macro quindi un'ottica che a me piace moltissimo che è fatta apposta per fare cose di questo tipo quindi serve proprio per avvicinarsi molto al soggetto essendo un 100 mm è un'ottica che ha una profondità di campo di per sé già non particolarmente espansa quindi focus stacking non dico obbligatorio perché in una foto del genere io avrei potuto utilizzare solamente il primo scatto quello con a fuoco il quadrante avrei potuto perché era comunque una buona immagine però un tipo di fotografia come questo dove tenete conto che gli orologi di lusso non è solo il quadrante tenete conto che in un orologio di lusso non dico un orologio d'oro non voglio andare su quelle cose lì ma semplicemente un orologio di lusso di fascia anche media il bracciale può arrivare a costare un migliaio di euro quindi non è che mettiamo a fuoco il quadrante e tutto il resto bracciale clasp sono da buttare assolutamente no hanno un costo molto elevato anche quelli e quindi è corretto in un tipo di fotografia come questo cercare di tenere a fuoco tutto quanto ora vado a farvi vedere le poche immagini che sono riuscito a catturare del set mi dispiace di non essere riuscito a fare le riprese durante però io essendo da solo avendo uno studio piccolo e avendo sempre le mani piene faccio veramente fatica a riprendere quello che sto facendo verrebbero delle riprese abbastanza brutte come infatti sono queste infatti servono solo a darvi un'idea di come erano disposte le cose e ovviamente come potete vedere dalle riprese stesse nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza il mio fedelissimo amico il trigger godox x pro c quindi la versione per canon se avete un'altra fotocamera come nikon prendete l'x pro n mi sembra che li abbiano denominati così non credo siano compatibili attraverso le varie case perché se li hanno fatti apposta probabilmente serve proprio quello il che è una bella fregatura però funzionano veramente tanto bene perché nel momento in cui io collego le mie tre lucette al mio piccolo trigger io posso dal trigger comandare le mie luci e quindi posso dire a una luce che sta sparando troppo forte di diminuire la potenza e posso dire a un'altra luce che non sta sparando abbastanza di aumentarla quindi molto molto comodo e ho tutto a portata di mano senza più dover toccare le cose una volta che ho allestito un set del genere io non tocco più niente perché poi ogni movimento potrebbe dare luogo a degli allineamenti mancati nel momento in cui faccio il mio focus stacking una nota particolare vi ho detto che avevo messo il mio diffusore sopra quindi l'ho appoggiato immaginatevi che ho i miei due strip box sui lati e io sopra gli strip box proprio pam a contatto ci ho appoggiato il mio diffusore posato sopra e quindi andavo a sparare la luce attraverso quello con la mia terza torcia immaginatevi però che questo telo diffusore era molto grande per cui quello che succedeva è che arrivava avanti e non avevo più spazio e avevo già posizionato tutto quindi non avevo altro modo di farlo arrivava avanti e c'era un riflesso di questo diffusore che veniva proiettato sulla parte superiore del cristallo dell'orologio per cui durante la fase di scatto ho preso uno stativo in più l'ho posizionato un pochettino fuori dalle scatole quindi non davanti per sollevare il diffusore solamente durante il primo scatto quindi durante il primo scatto ho scattato con il diffusore sollevato dopodiché l'ho riabbassato in maniera tale che nel primo scatto non c'è il riflesso sopra il cristallo in tutti gli altri la luce dal diffusore arriva meglio sul bracciale dell'orologio e su tutta quanta la superficie bianca che insomma volevo venisse chiara non poteva essere bianco puro in un contesto del genere avrei dovuto mettere un vetro sotto a questo punto e sparare un flash di schiarità anche sullo sfondo ma non avevo nello spazio né il vetro per fare questa operazione quindi ho preferito optare per un setup più semplice con riflesso piuttosto che un orologio isolato anche perché quello lo posso ottenere facilmente scontornando l'orologio in post produzione e non se ne accorge assolutamente nessuno della differenza quindi va bene così ora parlando della post produzione non vi sto a dire tutto qui perché come già detto c'è un video dedicato al focus stacking in cui vi faccio vedere la maggior parte degli step necessari per realizzarlo vi dico però un paio di cose una volta realizzata una fotografia di questo tipo col focus stacking quello che succede è che si vanno a miscelare tutte le varie immagini ci sono dei problemi di disallineamento e soprattutto se lo fate come me tramite photoshop esistono dei software di terze parti che lo fanno ma io non ho mai voluto affidarmi a software di terze parti perché poi spesso e volentieri falliscono non fanno più la release non fanno più l'aggiornamento quindi tu ti sei abituato in un modo e poi non ce l'hai più e a me questa cosa ha dato così fastidio in passato che adesso preferisco non averli software di terze parti uso solo photoshop e piuttosto preferisco sopperire io a delle piccole carenze dell'applicativo piuttosto che andarmi a prendere una componente di terze parti che posso usare magari quest'anno l'anno prossimo non c'è più e l'anno prossimo devo ricominciare a fare fatica per farlo a mano con photoshop e preferisco farlo a mano sempre così non mi abituo ora le imprecisioni che ci ritroveremo a fronteggiare quando uniamo le foto con photoshop sono che banalmente nel momento in cui abbiamo una superficie a fuoco e una superficie fuori fuoco che si intersecano l'applicativo fa fatica a delineare i contorni a capire dov'è che comincia il fuoco e dov'è che finisce il fuori fuoco quindi dovremo andare a fare delle maschere noi e andare a pennellare in maniera da rivelare tutte le porzioni a fuoco la maggior parte delle volte ci azzecca da solo però ci saranno dei punti in cui sbaglierà e quindi li dobbiamo andare a fare delle correzioni con le maschere per avere la perfezione perché comunque quando facciamo focus tracking vogliamo che sia tutto quanto a fuoco quindi fare questa tecnica e poi avere dei buchi delle imprecisioni è assolutamente controproducente perché stiamo parlando di un tipo di fotografia per un prodotto abbastanza alto quindi deve essere fatta no bene cioè deve essere pressoché perfetta quindi non possiamo permetterci scivoloni dobbiamo stare molto attenti a curare ogni aspetto la seconda cosa è il color cast ora io già supponevo che avrei dovuto fare una cosa del genere ma non pensavo così tanto ve lo confesso non so se riuscite a vedere nell'immagine che vi mostro quanto colore ho dovuto rimuovere sostanzialmente ho ho sbiancato gran parte della scena quadrante escluso perché come potete vedere c'è un devo dire inspiegabile color cast di colore viola che mi ha preso buona parte del set vi assicuro che non ho capito da dove arrivava perché questa questa è una stanza abbastanza neutra non ci sono colori non ho una tenda rosa o un pavimento rosso un soffitto blu sono muri bianchi l'arredamento è di colore neutro apposta proprio per questo motivo eppure c'era un color cast piuttosto invadente che ho rimosso e ultima cosa dobbiamo andare a correggere tutte quelle che sono le imperfezioni il chicco di polvere il pelucco che sono cose che succedono perché per quanto noi ci siamo preparati quindi abbiamo preso l'orologio l'abbiamo pulito prima dello shooting quindi classica pulizia di un orologio quindi l'abbiamo preso con uno spazzolino con le setole morbide giusto un po d'acqua ma neanche tanta una pulitina un'asciugata guanti non lasciare le ditate lo posizioniamo in maniera corretta e poi non lo tocchiamo più quindi nonostante abbiamo avuto questa accortezza nel mentre che noi allestiamo per quanto noi possiamo avere lo studio in ordine momento in cui prendi uno stativo prendi un modificatore metti insieme fai clac e lì fuori il chicco di polvere dove vuoi che si depositi si deposita sul cristallo dell'orologio ma è matematico 100 per cento senza via di scampo per cui dobbiamo andare poi in post produzione ingrandire a 200 300 400 per cento andare a fare un po di timbro clone un po di pennello correttivo un po di strumento toppa insomma tutto quello che ci viene in mente per andare a eliminare tutti quelli che possono essere considerate imperfezioni chicco di polvere su prodotti di questo tipo non ci deve essere quando si presenta una foto deve essere perfetta devo anche dire che le finiture non sono precise perfette nel momento in cui noi vediamo pubblicità di grandi marchi sui social su internet maggior parte delle volte non sono prodotti veri ma sono render per cui nel render è molto facile vedere che è perfetto poi quando è l'oggetto vero non è così preciso e perfetto la maggior parte delle volte delle micro imprecisioni ci sono possono esserci delle componenti molto piccole dove magari andiamo a vedere delle piccolissime imprecisioni o dei segni perché magari sono state fatte delle revisioni magari il quadrante è stato toccato e quindi si vede il segno dove è stato asportato il quadrante insomma è pieno di piccole cose che dobbiamo tenere sotto controllo perché in un'immagine come questa vogliamo andare a eliminarle quanto più possibile non ultima cosa vi segnalo una piccola difficoltà che ho avuto sulle lancette perché le lancette di questo orologio sono fondamentalmente ripiegate cioè è una è una lancetta a due facce che è progettata apposta per riflettere la luce o da una parte o dall'altra questo è fatto apposta ovviamente perché nel momento in cui noi andiamo a leggere l'ora tiltando il polso possiamo ricevere la luce da una parte o dall'altra e quindi non importa da che parte provenga la luce nell'ambiente in cui ci troviamo la luce incontra sempre uno dei due lati della lancetta e quindi riusciamo sempre ad avere una buona lettura sulla lancetta indipendentemente dalla direzione da cui proviene la luce ora nel modo in cui io ho illuminato il quadrante non era possibile illuminare le lancette in questa maniera per cui quello che ho fatto è stato che ho realizzato due scatti ho realizzato un primo scatto del quadrante con un'illuminazione di un certo tipo e un secondo scatto del quadrante tenendo in mano un ulteriore flash di cui non vi ho ancora parlato che era un semplicissimo speed light nel mio caso era quello di canon il 430 versione seconda con un trigger quindi scattava in remoto anche lui era messo in parallelo al trigger della godox l'ho acceso solo per fare quello scatto poi lo spento subito prima di andare a fare il focus stacking e questo mi ha permesso di illuminare solo le lancette di dare una direzione alla luce solo sulle due lancette fatto prima una lancetta e poi un'altra quindi due scatti in quella posizione dopodiché ho spento il flash e ho continuato a fare il mio stacking e questo perché come detto non era possibile per come avevo allestito la scena dare anche quella direzionalità alla luce solamente sulle lancette senza influenzare il quadrante senza influenzare il resto della scena quindi questi sono piccoli trucchi per cercare di rendere al meglio immagini come queste che è quello che poi è richiesto perché se io le avessi lasciate piatte la foto non sarebbe stata corretta non sarebbe stata canonica diciamo perché in una foto del genere si devono evincere questi dettagli del prodotto quindi devono essere messi in luce e anche bene bene amici io credo di essermi dilungato anche troppo perché in questo video vi ho cercato di portare con me sul set ho cercato di farvi vedere come si fa come faccio io perlomeno a realizzare uno scatto di questo tipo uno scatto che come detto non è per niente semplice è una cosa che io trovo molto divertente molto appagante mi piace veramente molto fotografare gli orologi vi dirò di più a me piace di più fotografare gli orologi che fotografare persone questo per tutta una serie di motivi la prima fra tutte è che l'orologio non si stanca l'orologio non commenta e l'orologio non ti dirà mai che si vede grasso quindi l'orologio sta lì e viene esattamente come tu lo vuoi ma non sarà mai lui a dirti che non è venuto bene semmai sarai tu a pensare che non hai fatto del tuo meglio però questa è una bella sensazione per me perché se viene bene è merito mio non può esistere il caso in cui non venga bene perché entra in gioco il gusto di un'altra persona in questo caso è gusto mio sì per carità tecnica esperienza sapere certe regole su come si fotografano gli orologi come per esempio la direzione delle lancette che è un po canonica deve essere quella ovviamente non si può fotografare un orologio con le lancette tutte e due ore 12 diciamo che sorvolando su queste cose che magari ti tendono a far diventare un pochino più puntigliose quindi possono essere meno divertenti però le sai fanno parte del gioco io trovo veramente molto divertente posizionare le luci e trovare l'arrangiamento migliore per far rendere al meglio un oggetto riflettente perché è una sfida tosta è più difficile questo piuttosto che fotografare cosa ne so un cucciolo di cane o un oggetto non riflettente è più difficile questo quindi io lo trovo molto molto più appagante a questo punto vi invito nei commenti fatemi sapere se avete mai provato a sperimentare qualcosa del genere se avete utilizzato qualcuna delle dievolerie che vi ho fatto vedere se fate fotografie di orologi per instagram se fate still life per in qualsiasi altro scopo fatemelo sapere nei commenti sono molto curioso di sapere cosa ne pensate vi ricordo anche che se argomenti come questo vi interessano oltre a lasciare un like a questo video così me lo fate capire potete dirmelo in un commento iscrivetevi anche al canale perché a questo punto se vi interessano questi argomenti e me lo segnalate seguiranno nuovi aggiornamenti signori io vi ringrazio di aver passato con me un po del vostro tempo e vi do appuntamento al prossimo video